Notizia sicuramente interessante per tantissimi di voi che riguarda appunto la carta acquisti, perché sono in arrivo nuovi buoni spesa per l'acquisto dei beni alimentari, quelli di assoluta prima necessità. Il decreto che è stato firmato dai ministri dell'agricoltura e dell'economia è stato pubblicato in gazzetta ufficiale. È stato fatto il 12 di maggio, quindi cosa abbastanza fresca. Con uno stanziamento di ben 500 milioni di euro per quest'anno, per il 2023, prevede che la carta acquisti sia operativa subito dal primo di luglio per 1.300.000 beneficiari con l'ISE che però non supera il tetto dei 15.000 euro. Valore? Assolutamente la carta acquisti alimentare sarà di 382,50 euro. Quindi non serve fare richiesta, ma è necessario l'ISE che sia assolutamente aggiornato. A chi spetta? Beneficiari della carta spesa alimentare sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 14 maggio 2023. Iscrizione di tutti i componenti nell'anagrafe comunale della popolazione residente. ISEE ordinario, non superiore ai 15.000 euro annui. Non essere beneficiari alla stessa data del decreto di a. Reddito di cittadinanza. B. Reddito di inclusione. C. Qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. D. Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito. F. Cassa integrazione guadagni CIG. G. Disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale o di sostegno erogate dallo Stato. Concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo minimo pari a 382,5 euro, eventualmente incrementato nella misura derivante dal risparmio di carte non utilizzate a ottobre 2023. Il contributo è destinato all'acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati. Entro il 15 giugno l'INPS dovrebbe rendere disponibili ai singoli comuni gli elenchi dei possibili beneficiari sulla base dell'ISE e con le istruzioni operative. Ad ogni comune il Ministero ha assegnato un certo numero di carte, calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio dei cittadini del comune e il reddito medio nazionale. Non è prevista quindi la presentazione della domanda. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, postepei, e sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. Le carte sono nominative e saranno operative a partire dal mese di luglio 2023. Se non vengono utilizzate per la prima volta, entro il 15 settembre vengono ritirate. Gli importi residui saranno ricaricati sulle carte dei componenti dei nuclei familiari che abbiano regolarmente utilizzato le somme nei mesi precedenti. Grazie a tutti.